al mercato centinaia di indumenti in dono al popolo ucraino vecchio palace due milioni e mezzo per completarlo entro l'anno cassonetti intelligenti e isole in centro parte la rivoluzione dei rifiuti a monbaroccio col nuovo asilo anche una piazza per villa grande un ulivo sul lungomare per ricordare alex eusepi buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di martedì primo marzo apriamo occupandoci della crescente ondata di solidarietà che anche a pesaro si sta registrando verso il popolo ucraino attaccato dalle forze armate russe tante le iniziative che si stanno moltiplicando sul territorio compresa quella che stamattina ha visto protagonisti gli ambulanti e clienti del mercato settimanale delle san decenzio di pesaro vediamo siamo al sesto giorno di guerra al sesto giorno in cui è cominciata l'invasione della russia in ucraina pochi giorni pochi giorni tragici ma che sono stati sufficienti a mobilitare anche l'attenzione la sensibilità la generosità dei pesaresi caso emblematico oggi qui al mercato settimanale del martedì al san decenzio di pesaro dove gli stessi venditori ambulanti si sono coordinati nell'organizzare una raccolta di indumenti coperte anche peluche giocattoli destinati ai cittadini ucraini a quelli in fuga dal loro paese che sono destinati anche arrivare in italia ma anche agli stessi confini c'è un coordinamento con la protezione civile che appunto ha un filo diretto con gli ambulanti qui sono le dieci e mezza del mercato del martedì al san decenzio la raccolta è iniziata ad un'ora e mezzo e già sono tantissimi i doni arrivati qui davanti al bar ciclone del mercato san decenzio abbiamo fatto una petizione con tutti gli ambulanti che sono a corsi in maniera proprio esemplare perché la sensibilità per questa gente è veramente tanta e stanno arrivando coperte e tante cose calde e dagli stessi ambulanti anche dalla popolazione di pesaro volevo anche ribadire che anche martedì prossimo faremo questa raccolta proprio per l'ucraina e siamo molto contenti che il mercato di pesaro ha sensibilizzato questa cosa di modo che la gente possa capire e l'umiltà e soprattutto il rancore degli ambulanti e siete organizzati in un coordinamento diretto con la protezione civile siamo organizzati tramite il comune di pesaro e con l'assessore franco e luci che mi ha aiutato ad avere questo canale per diciamo così portare tutta questa roba direttamente ai confini dell'ucrania oppure anche a tutti gli ucraini che arrivano in italia ecco la raccolta iniziata da un'ora un quarto vediamo già tantissime tantissimi sacchi di indumenti di cose utili appunto agli ucraini e dunque il passaparola ha funzionato ha funzionato anche perché io ho detto che intanto la merce anche se era usata io la volevo pulita e stanno arrivando veramente tantissime cose e sono contento che già la protezione civile mi fa arrivare un camion e tra non molto per poter fare questo primo viaggio siamo contentissimi e soprattutto voglio ribadire questo che non è vero non è assolutamente vero che gli ambulanti e se ne fregano e pensano sempre al proprio orto oggi abbiamo dato dimostrazione a pesaro che gli ambulanti sono veri sani e sono gente veramente che tiene a questa situazione e dunque la generosità la necessità non si ferma ad oggi anche il prossimo mercato del martedì di martedì 8 marzo questa raccolta sarà replicata sempre dalle 9 alle 12 davanti al bar ciclone delle mercato settimanale al san decenzio e sempre a pesaro ieri c'è stato il consiglio comunale con particolare attenzione dedicata agli infiniti cantieri che campeggiano al vecchio palasport di viale dei partigiani nel prossimo servizio andiamo a capire meglio dei tempi i costi e le prospettive per il completamento di questa opera una interrogazione in consiglio comunale extra large per scannerizzare costi ritardi e previsioni di quello che è diventato il cantiere lumaca per antonomasia della città il vecchio palasport o futuro palascavolini che dir si voglia si ritaglia un abbondante quarto d'ora del consiglio comunale del 28 febbraio con l'assessore al fare riccardo pozzi a rispondere all'interrogazione del consigliere daniele malandrino snocciolando una cronostoria fatta di cifre e cambiamenti in corsa di una struttura che si pensava di inaugurare alla chiusura delle rossini opera festival del 2021 e che invece sarà ancora con le impalcature per la prossima edizione del roff confidando di arrivare al completamento entro la fine dell'anno una serie di ritardi che come ricordato da pozzi sono partiti nel 2016 anno che modificò l'intervento da miglioramento statico a miglioramento sismico dell'intera struttura tribune comprese a seguito poi del sisma che interessato le marche nel 2016 e considerato l'elevato carico emotivo anche che nacque sulla cittadinanza la sensibilità sul tema terremoto e la sensibilizzazione per tale aspetto progettuale l'amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre una richiesta migliorativa del progetto esecutivo in fase di redazione richiedendo il miglioramento sismico controllato dall'intero complesso edilizio aggravio di lavori aggravio di costi e inevitabile accumulo di ritardi complessivamente quindi prima del definitivo avvio dei lavori il procedimento aveva già accumulato un ritardo se così vogliamo chiamarlo di due anni iniziati i lavori tecnici e ditta si sono trovati di fronte a lavorazioni tipo strutturale non ipotizzate prima del procedimento in essere che hanno richiesto un anno di tempo stante l'avanzato stato del procedimento dei lavori quindi in merito anche alla sua domanda stiamo lavorando per concluderli entro l'anno corrente i costi sono partiti dunque da poco meno di 4 milioni a 5 milioni 800 mila euro corrisposti alle imprese che hanno lavorato finora sulla struttura per l'importo eccedente un milione e sette dal gse e ora due milioni e mezzo previsti nel bilancio di previsione per il completamento quindi merito al conoscere l'esatto importo che si prevede per il completamento dei lavori la stima preventiva per la conclusione di lavori di 2 milioni e mezzo che sono previsti nel bilancio di previsione 2022 insomma una struttura fin qui con tanti incidenti di percorso che però al momento non inducono il comune a voler intraprendere azioni legali al momento non sussistono i presupposti né interesse o convenienza da parte dell'amministrazione comunale ad avviare le azioni legali nei confronti delle ditte assegnatari dell'appalto per esecuzione dei lavori dell'ex palazzetto dello sport è altresci vero che l'amministrazione comunale mantenendo il costante controllo del procedimento e dei lavori può agire nei confronti delle ditte esterne fino al momento della chiusura definitiva del contratto ovvero prima dell'approvazione del certificato di collaudo che sarà redatto il momento opportuno ci spostiamo da pesaro per una notizia di cronaca un uomo e una donna che transitavano in macchina nel territorio di marotta sono stati fermati dai carabinieri e trovati in possesso di 140 grammi di cannabis in auto nello specifico c'erano quattro persone e l'eccessivo nervosismo della coppia in questione ha insospettito i militari che hanno deciso per la perquisizione trovando un netto di hashish addosso all'uomo e parte del quale in dosi già confezionate per lo spaccio altri 40 grammi di marijuana erano invece in possesso della donna l'uomo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti mentre per la donna è scattata la denuncia migliorare ulteriormente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a pesaro e non solo e questo uno degli obiettivi per il 2022 di Marche Multiservizi che punta su diverse linee d'azione come ci spiega l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli. Marche Multiservizi cerca continuamente di innovare le proprie attività i propri servizi nel senso di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi che forniamo ai cittadini e quindi alle amministrazioni comunali interessate è ovvio che in questo contesto l'occasione delle fondi del PNRR che sono già usciti anche come bando ci danno un'opportunità che è da cogliere perché non è poi automatico come qualcuno pensa, ci sono i fondi quindi tutto tranquillo, si tratta di presentare dei progetti e sulla base dei progetti saranno poi valutati a livello nazionale e quindi speriamo di essere autori dell'ottenimento di una parte quantomeno di questi fondi. È un progetto che abbiamo fatto per tutti i comuni che ce l'hanno chiesto, non solo per Pesaro, questo lo vorrei sottolineare, è chiaro che Pesaro per la sua rilevanza e per la sua dimensione è la parte più importante e proprio in questa direzione abbiamo puntato su i cosiddetti cassonetti intelligenti o cassonetti smarti. Quindi da questo punto di vista adesso speriamo che le valutazioni siano positive, con Pesaro abbiamo pensato proprio per la sua peculiarità e ripeto per la sua dimensione di partire con una prima sperimentazione al di là dei fondi perché chiaramente poi si tratta di cambiare anche le modalità di raccolta soprattutto nel centro storico che vorrei ricordare oggi abbiamo il porta a porta e quindi nell'area a destra di via Branca e quindi con l'angolo di San Francesco, via San Francesco, tutta la parte a destra partendo dal teatro Rossini del centro storico andremo a posizionare in accordo con l'amministrazione comunale tenute conto di quelli che sono i parcheggi, la viabilità e quant'altro, gli spazi andremo a posizionare sei isole ecologiche intelligenti nei tempi che adesso andremo a definire con l'amministrazione, ripeto perché non è una cosa semplice, anche perché poi queste isole hanno bisogno dello spazio necessario per poi essere svuotate e quant'altro. Il salto di qualità che vogliamo ottenere è il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, la tracciabilità per quanto possibile dei rifiuti e quindi per arrivare anche alla tariffazione di questo servizio, quindi è un processo qualitativo che va anche nella direzione di quelli che sono gli orientamenti e le delibere dell'autority nazionale, che è Arera, che va nell'ottica di continuo miglioramento e efficientamento del servizio. E proprio in tema di rifiuti continua anche il maleducato abbandono degli stessi fuori dai corretti luoghi di smaltimento. La foto che vi mostriamo è stata stigmatizzata oggi sullo stesso sito web di Marche Multiservizi che ironicamente si è rivolta all'autore dell'abbandono. Scrivendo come siamo stupiti dall'impegno che hai messo per abbandonare i tuoi rifiuti, preoccupandoti di mettere in auto un vecchio water e una pianta, percorrendo con l'auto la strada per arrivare ai cassonetti, scaricando il water e la pianta, chiudendo con cura la tavoletta del water e appoggiandoci sopra il vaso. Avresti impiegato pochi minuti per raggiungere il centro di smaltimento di via Toscana da via dei Tigli dove appunto è stato abbandonato il water. Marche Multiservizi ricorda anche che abbandonare i rifiuti non solo è un atto incivile e di mancanza di rispetto verso l'ambiente, ma anche illecito e sanzionabile. Abbandonare i rifiuti, lo ricordiamo, è infatti vietato dalla legge. Abbiamo parlato di fondi PNRR per il piano rifiuti, fondi che sono invece già stati assegnati per progetti innovativi in alcune scuole del territorio. Su 90 progetti presentati dalla regione Marche, il comune di Monbaroccio ha ottenuto il punteggio più alto, ottenendo 1 milione e 600 mila euro per una nuova scuola dell'infanzia che contestualmente darà anche una piazza alla frazione di Villagrande. Ascoltiamo a tal proposito il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Grazie al progetto che ci ha portato a vincere quello che era il fondo PNRR cambierà sostanzialmente anche la visione del territorio, laddove il tetto della scuola diventerà una piazza, una piazza che manca da sempre nella frazione di Villagrande di Monbaroccio e che con questa nuova progettazione, con questa nuova realizzazione finalmente prenderà vita. Quindi una scuola, una scuola di infanzia che si riqualificherà, che amplierà gli spazi, che si trasformerà tutta sul livello ma che a contempo definirà anche quella che è la morfologia del nostro territorio perché la scuola non diventa solo, tra virgolette, punto di cultura ma diventa anche un punto di riferimento per il sociale e dico anche di riqualificazione energetica perché la stessa scuola che sarà totalmente autosufficiente potrà prevedere sulla piazza stessa anche delle forme di accumulatore energetico che alimenteranno l'illuminazione della scuola e della piazza ma che potranno rafforzati questi accumulatori anche destinare l'energia all'illuminazione pubblica. Quindi una scuola che diventa il centro di tutto, economico, sociale e culturale. Direi che tornato in auge è quello che io in questa scuola ci sono cresciuto, ci sono passato la mia infanzia e vivevo dall'altra parte della strada, quindi la vedevo tutti i giorni e già da piccolo pensavo come poteva trasformarsi il territorio perché questo è il cuore della nostra frazione, la nostra frazione io sono di Villa Grande, frazione di Monbaroccio, questo era il cuore di questa frazione e qui doveva sorgere qualcosa di importante e grazie a questo contributo, a questo fondo che siamo riusciti, a cui siamo riusciti ad accedere avremo veramente il modo di modificare una frazione e di farla crescere sotto tutti gli aspetti. È chiaro che nel momento in cui si riuscirà a realizzare una piazza si avrà un cuore e se un cuore esiste in una frazione poi subentra anche l'anima, una frazione che è la più importante a livello numeroso perché la più numerosa del comune non ha mai avuto un punto di riferimento, non ha mai avuto una piazza. Questo permetterà, sono convinto, di creare anche quello che è una aggregazione sociale, un rafforzamento di quelle che sono le attività su questa frazione, penso ad alcuni concerti, penso ad alcune attività, la promozione di prodotti tipici, la promozione di attività culturali, tutto ciò che una piazza può offrire e se pensiamo che la base della piazza sono i nostri bambini perché sono il riferimento per cui tutto è partito, diventa un valore aggiunto unico forse nel suo genere. E torniamo su Pesero perché tra i temi trattati nel consiglio comunale di ieri c'è stata anche una mozione per creare un museo della meteorologia all'osservatorio Valerio. Il progetto si chiama We Valerio ed è a firma delle consigliere Anna Maria Mattioli e Chiara Panicali e punta ad un'area museale che diventi anche la casa ideale per l'allestimento di laboratori didattico-scientifici di climatologia e meteorologia. Ed ora qualche appuntamento a cominciare da quelli di Playlist, la rassegna musicale di 11 eventi realizzata su iniziativa del Comune di Pesero, AMAT e con il contributo di BPR Banca. Domani alle 21 alla chiesa dell'Annunziata ad essere protagonista sarà l'elettronica dell'ensemble esecutori di metallo su carta con la performance Discovering the Electronic Music of Cino Goya Sornisi. Il giorno seguente, giovedì 3 marzo, sempre alle 21, ma al teatro sperimentale, altro appuntamento con Playlist e con l'anno che verrà canzoni di Lucio Dalla. Un incastro musicale fra personalità artistiche provenienti da culture musicali diversi come gli argentini Aver Girotto e Nataglio Mangalavite che incontrano la voce di Peppe Servillo. Altro giorno, venerdì 4 marzo alle ore 18, nei locali della Biblioteca Oliveriana verrà presentato il nuovo volume degli Studia Oliveriana. Prestigiosa rivista fondata nel lontano 1953 da Schevola Mariotti, ora giunta al settimo numero della quarta serie. Interverranno il direttore della rivista Pier Giorgio Parroni, i professori Paolo De Paolis e Enrico Capodaglio e il presidente dell'ente Olivieri Fabrizio Battistelli. Domattina, mercoledì 2 marzo alle 9, il sindaco di Tavuglia Francesca Paolucci taglierà il nastro del nuovo Conad City che inaugura il cambio di gestione del supermercato in via Pergolesi. La superficie del negozio sarà di 350 metri quadri e all'interno lavoreranno 11 persone in una gestione a carattere familiare affidata alla società Giva dei soci Alessandro Giavoli e Cosetta Vagnini. Domani vi mostreremo le immagini dell'inaugurazione nelle telegiornale Rossini News. E cambiamo argomento. La morte del vigile del fuoco Alex Euseppi a inizio gennaio ha sconvolto tanti pesaresi che conoscevano questo ragazzo generoso e impegnato in tante iniziative cittadine. Lo scorso weekend, venerdì, in quello che sarebbe stato il giorno del 39esimo compleanno di Alex, i giovani democratici di Pesaro hanno voluto ricordare il vigile del fuoco piantumando un ulivo sul lungomare. Il 25 febbraio Alex Euseppi avrebbe compiuto 39 anni, ma nei primi giorni del 2022 il destino l'ha strappato prematuramente dall'affetto dei propri cari. Nel giorno del compleanno di Alex, i giovani democratici di Pesaro hanno voluto onorare la memoria del vigile del fuoco peserese costantemente impegnati in una cittadinanza attiva nelle file del Partito Democratico, piantumando un ulivo in piazzale d'annunzio. Lo hanno fatto al termine di un venerdì all'insegna del rispetto e della tutela dell'ambiente che presso il municipio di Pesaro ha convogliato le tante progettualità di giovani democratici, Cleaners Team e dei ragazzi vincitori del premio Mad for Science del liceo Marconi di Pesaro. All'orizzonte a breve termine c'è la manifestazione Fridays for Future del 25 marzo. Senza termine invece il ricordo e l'affetto per Alex. Al termine dell'evento abbiamo scelto simbolicamente di piantare questo albero alle mie spalle, un olivo, per ricordarci che comunque la lotta per l'ambiente è una cosa molto importante e questo voleva essere un simbolo per ricordarci che un albero è vita. Ed è vita anche perché oggi sarebbe stato il compleanno di un nostro caro amico e compagno del nostro partito democratico Alex Eusepi e l'abbiamo voluto a lui insomma dedicare assieme alla famiglia e a tutti gli amici che sono venuti oggi per piantare insieme a noi l'albero. E per concludere una notizia di sport. La Vispesaro ha ufficializzato oggi il rinnovo di contratto del suo capitano Fabio Gavazzi fino al 30 giugno 2025. Dunque un importante matrimonio che si prolunga fra il difensore e la squadra biancorossa. Si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Vi ricordo la nostra prima serata che alle 21.20 è dedicata alla quarta puntata del ciclo di documentari realizzato da Gastone Mazzanti, una volta a Fan Ceren i Campani. Questo bel ciclo di documentari è appunto che ripercorre gli eventi bellici del secondo conflitto mondiale sulla città di Fano. Quarta puntata i bombardamenti in città. Appuntamento alle 21.20 e la prima replica come vedete in grafica è giovedì alle 15.30. L'informazione su Rossini TV poi torna puntuale domattina con il consueto appuntamento con Buongiorno Rossini, la nostra segna stampa dei quotidiani locali che va sempre in diretta dal lunedì al sabato alle 7.20 a tenervi compagnia domattina ci sarà la nostra Emanuela Rossi. E vi ricordiamo anche l'appuntamento fisso con le 7 messe trasmesse alla domenica in diretta da Rossini TV. Domenica 6 marzo alle 11.30 l'appuntamento sarà in diretta dal Duomo di Pesaro. Ed ora ci sono invece le previsioni del tempo e a me non resta altro che augurarvi una buona serata in compagnia dei nostri programmi.